Ciao ragazzi, questo video sarà diverso dal solito. Allora, questo video l'ho fatto per dirvi che praticamente se questo video arriva a 5 like voi nei commenti scrivete dei vostri nickname io nel prossimo video di figurine calciatori spacchetterò 10 pacchetti e ogni pacchetto lo dedicherò a una persona che è iscritta, ha lasciato like ha lasciato il commento con il suo nickname ragazzi, questo era un piccolino un piccolo video e mi raccomando ragazzi se volete questo video lasciate un nickname e un'iscrizione grazie ragazzi